La famiglia reale britannica, in inglese British Royal Family, è composta dai parenti prossimi del sovrano o sovrana protempore regnanti. Comunemente, il termine è anche applicato allo stesso gruppo di persone come membri della famiglia reale degli altri reami del Commonwealth. Gli attuali membri della famiglia reale appartengono per nascita o per matrimonio al casato dei Windsor, in merito alle condizioni di Kate Middleton e Re Carlo III. C'è molto riserbo nella Royal Family, in quanto hanno chiesto fin da subito alla stampa inglese di voler vivere questo momento difficile, nella più totale riservatezza insieme alla loro famiglia. Non si sa quindi molto sulle condizioni dei reali, se non quello che abbiamo appreso dal Mirror, cioè che pare che alla Delay the Cottage presto si faranno dei lavori di ristrutturazione, in modo da allestire in un'ala della loro casa, un ospedale provvisorio dove Kate e forse anche Carlo potranno curarsi. Di recente si è appreso, sempre da indiscrezioni che sia Kate Middleton, sia Re Carlo III abbiano dovuto modificare la loro dieta per affrontare al meglio le cure per il cancro. Un alimento a cui non solo loro ma tutta la Royal Family ha dovuto fare a meno, è la carne cruda o poco cotta. Non tutti ne saranno a conoscenza, ma i reali inglesi hanno delle regole molto rigide in merito a cosa i nobili possano o meno mangiare fuori da palazzo. Per evitare infatti, problemi di intossicazione alimentare, da quello che si vocifera, la Royal quando è fuori a presenziare eventi pubblici. Deve assolutamente evitare oltre alla carne, come già anticipato, anche pesce crudo, frutti di mare, crostacei, tutto ciò che contiene aglio e cipolla e molto altro. Se Re Carlo III e famiglia fuori hanno molte limitazioni. Dentro casa possono mangiare in maniera serena, essendo il cibo super controllato e preparato dalle mani esperte del personale di cucina reale. In quanti sapevano di questa rigida regola dei Windsor?